Vangelo del giorno, con breve commento 10 agosto 2023, memoria di San Lorenzo Ascoltiamo cosa il Vangelo ci insegna oggi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli In verità, in verità io vi dico se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo se invece muore porta molto frutto chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna se uno mi vuole servire mi segua e dove sono io la sarà anche il mio servitore Se uno serve me il Padre lo onorerà Cosa ci insegna questa bellissima pagina di Vangelo? Ci insegna che noi siamo dei piccoli chicchi di grano Un chicco tenuto in disparte tenuto su un tavolo tenuto su un comodino non fa nulla anzi, marcisce e non serve a niente Solo nel momento in cui il chicco cade nella terra esso muore per poi risorgere e produrre frutto Questa è la nostra vita Se stiamo in ozio non facciamo nulla marciamo dentro di noi e marcire è una cosa negativa è una cosa brutta perché ci rende brutti ci fa tra virgolette puzzare Il cristiano non puzza Il cristiano profuma di frumento Il cristiano profuma di Cristo Ed ecco che solo se si lascia ogni giorno morire per qualcosa per qualcuno allora produce frutti Se il chicco di grano caduto in terra non muore non produce frutto Allora ecco questo è il mio augurio che io e voi possiamo essere chicchi di grano che ogni giorno si lasciano morire per produrre qualche frutto buono Buon cammino